Che ne dici? Ti piace? Ammazza, ma pare ne chi lauta? Artù, ma non ti vergogne? Dove mi nasci a mica a fare i guerri stellari? Ah, ma mica puoi nasci a ca la giacca del pigiama, però, eh? L'Italia socialista. Mario! Luca! Quando sei arrivato? Un'oretta fa. Mamma, papà, questo è Luca. Piacere, il famoso Covelli della Curva Sud. A Covello, forza Roma! Sempre magica! A me puoi impensierirmi una persona sola. Sugli spalti dell'Olimpico, Roma-Napoli, incontro Patrizio-Liva. Lì sarebbe dura. Roberto, è tuo padre che ti parla. Ma vedi da là, fa un culo! Come ti senti adesso? Sto un po' meglio. Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo, dimmi cos'è. Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è. Di un po'. Secondo te dove lo festeggia il Capodanno Toninio Serezzo? Che ci toglie il respiro. Eh già, ci stavo pensando proprio prima mentre vomitavo. Se non mi dormi perché è un professionista. Grazie. 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 Grazie.